Allora ciao a tutte e tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento di approfondimento teorico al Venice Climate Camp 2020. Ovviamente come avete notato ieri c'è una differenza rispetto al setting dell'anno scorso, l'anno scorso eravamo tutti in cerchio, tutti vicini in una dinamica più informale. Ovviamente la scelta di quest'anno non è dovuta alla necessità di avere una discussione frontale, alla volontà di avere una discussione frontale, ma è ovviamente dovuta al mantenimento delle distanze di sicurezza rispetto al Covid, anche questo fa parte della cura comune che stiamo provando a mettere in pratica in questi giorni. Ciononostante spero che come ieri il dibattito è stato molto partecipato, ci sono stati tanti interventi, ce ne siano anche oggi, quindi invito tutti a non farsi, diciamo così, intimidire dal setting di questa discussione, ma so già che non sarà così. Oggi parliamo di decolonialità e giustizia climatica o decolonialità e crisi climatica, lo facciamo con alcuni ospiti, qua dal vivo abbiamo Mauro Abeneggiamo dell'Università di Trieste e abbiamo Salvo Torre che insegna invece a Catania, entrambi sono anche parte del collettivo POE con cui collaboriamo ormai da tempo e vi ringraziamo per essere qua oggi per contribuire a questa discussione. Devo immediatamente rallentare perché c'è la traduzione, devo dare modo agli interpreti di seguire, li ringrazio per non dimenticarmeli dopo, Marco e Sergio che si occupano della traduzione, quindi davvero grazie per questo lavoro importantissimo. Ecco, oltre Maura e Salvo avremo due interventi in video, due interventi raccolti da Marco Armiero che apriranno la discussione sono quello di Malcolm Ferdinand che è uno studioso martinicano che ha pubblicato recentemente un libro intitolato Pour une Ecologie Decoloniale, per un'ecologia decoloniale, esiste in francese, non ancora stato tradotto in italiano, speriamo che lo sia presto e il secondo contributo video è quello invece di Felipe Milanes dell'Università di Bahia, è un brasiliano, lui studia e lavora, vive in Brasile, è un antropologo e si occupa di ecologia politica. Quindi davvero anche un grazie a Marco Armiero per aver raccolto questi importanti contributi. Io provo semplicemente da assoluto profano dell'ecologia decoloniale a offrire alcuni spunti alla discussione che spero poi Maura e Salvo vogliano raccogliere e parto proprio da quello che sentiremo e vedremo nei video. Parto dal libro di Malcolm e sentirete che Marco Armiero pone proprio come prima domanda a Malcolm una domanda appunto la prima, la più diciamo immediata, di cosa parliamo quando parliamo di ecologia decoloniale? E lui risponde che l'ecologia decoloniale ha alla base la necessità prima di tutto di tracciare una genealogia non eurocentrica del pensiero ecologista ed ambientalista, ma soprattutto ha una missione teorico-politica che Ferdinand sottolinea, cioè quella di sanare una frattura che è epistemica, cioè che riguarda la formazione del campo del sapere, che riguarda ciò che noi sappiamo e quello che noi conosciamo, ma è anche una frattura politica. Una frattura tra, da una parte, l'ecologia politica e dall'altra parte il pensiero post-o decoloniale. E l'ecologia politica, sto seguendo il ragionamento di Ferdinand, ma in generale il pensiero ambientalista, potremmo dire, spesso sottovalutano il peso che la vicenda coloniale ha avuto nella definizione di quel modello estrattivo che oggi ha prodotto la drammatica crisi climatica che stiamo vivendo. Questa sottovalutazione, che ovviamente non avviene sempre per fortuna, Ferdinand in qualche modo isola una tendenza. Questa sottovalutazione comporta una seconda sottovalutazione, quella del ruolo delle soggettività negre, che Ferdinand usa questo termine, intendendo il termine negro come qualcosa che descrive tutte le soggettività razzializzate, subalterne, non bianche. Quindi una sottovalutazione delle soggettività negre nella loro capacità di mettere in pratica modalità non estrattive di abitare il mondo. Ferdinand nel suo libro parla dei Caraibi, si riferisce naturalmente agli indigeni, ma si riferisce anche ai cosiddetti Maroons, cioè ovvero agli schiavi neri che si liberavano dalle piantagioni e fuggivano sulle montagne, sulle colline di Haiti e della Giamaica, mettendo in pratica un modello di vita, forme di vita che Ferdinand richiama come ecologicamente assolutamente radicali e compatibili. E questa è la prima frattura. In maniera speculare però, ci dice Ferdinand, altrettanto spesso accade che il pensiero postcoloniale e anche le lotte antirazziste, sempre questa doppia attenzione al campo dei saperi e al campo dei movimenti, spesso non mettono in luce la centralità del dato ecologico. E allora come è possibile ricomporre tale frattura? Per Ferdinand il punto di partenza possibile della ricomposizione di tale frattura tra pensiero dell'ecologia e pensiero decoloniale o postcoloniale è quello di tracciare quella genealogia alternativa del pensiero sull'ecologia a partire da un luogo preciso che sono i Caraibi. Non è quindi l'Europa per fare la storia della crisi climatica, delle sue resistenze Ferdinand non parte, quindi per esempio dall'Europa del XIX secolo o prima ancora, parte dai Caraibi e parte dalla fine del XV secolo. Lo fa anche con delle operazioni teoriche interessanti, lui dice fa un tentativo di creolizzare pensatori bianchi che scrivevano durante l'età coloniale nel XVIII-XIX secolo che stanno alla base dell'ambientalismo occidentale, pensiamo a lui pensa, lui cita Rousseau da una parte, Jean-Jacques Rousseau e Henry David Thoreau dall'altra e creolizzarli significa provare a dare una lettura in cui il loro pensiero sulla natura e sull'ecologia, penso a Thoreau per esempio, non è separato dal loro pensiero per esempio sull'abolizione della schiavitù, per esempio sulla disobbedienza civile. Gli studi più tradizionali ci restituiscono delle figure di intellettuali, di pensatori in cui la politica e l'amore per la natura sono cose che non si intrecciano, sono cose separate. Ecco Ferdinand tenta di rivedere appunto questa frattura e di provare che invece ci sono delle connessioni fortissime, ma soprattutto Ferdinand individua le radici del modo estrattivo di relazionarsi al mondo, cioè quello che noi oggi combattiamo quando facciamo il climate camp, quando andiamo ad occupare il sito di un nuovo inceneritore come questa mattina e gli individua le radici del modo estrattivo di relazionarsi al mondo in quello che definisce l'abitare coloniale. Lui dice molti, non tutti, ma naturalmente molti dei problemi che oggi riguardano questo capitalismo della catastrofe che ha superato addirittura il capitalismo dei disastri su cui Naomi Klein ci aveva messo in guardia. Bene, questo modello estrattivo ha una delle sue radici secondo lui nel modo in cui i coloni hanno iniziato a partire dal XV secolo ad abitare le colonie, in particolare i Caraibi. E su cosa si basa questo abitare coloniale? Si basa sull'uccisione degli indigeni e sulla distruzione delle eredità culturali degli indigeni. Si basa sul lavoro degli schiavi catturati nell'Africa occidentale e sull'organizzazione della produzione attraverso la piantagione, quindi lavoro schiavista e uccisione della biodiversità. E qui ci rallacciamo per esempio a quello che l'Ere ci raccontava ieri. E poi per rafforzare la sua insistenza sul peso del colonialismo e della tratta degli schiavi nella storia ecologica del mondo, quindi nella storia del mondo, Ferdinand conia un altro termine, ci fa balenare l'esistenza di un'altra epoca che lui definisce negrocene, che si sostituirebbe al più noto antropocene che abbiamo ampiamente criticato in diverse occasioni. Che cos'è il negrocene? Il negrocene è, a mio avviso, un ribaltamento per esempio nella categoria marxiana classica che è quella della reificazione. Il marxismo classico europeo si è concentrato su questo fenomeno del divenire cose degli uomini. bene, Ferdinand ribalta la prospettiva e dice il negrocene è una sorta di negrificazione della natura e l'idea che l'uomo bianco e il capitalismo e l'accumulazione originaria si sia basata sul trattare le risorse naturali e le specie non umane esattamente come venivano trattati negri in catene, come esseri e risorse disponibili, completamente disponibili alla predazione. E questo è il primo video che andremo a vedere, che secondo me ci dà già delle coordinate importanti. Il secondo durano in tutto un quarto d'ora, quindi non sono brevi ma non sono lunghissimi, però ci sembrava importante proporli, poi saranno disponibili in versione integrale perché non li vediamo tutti naturalmente su Global Project. Il secondo è quello di Felipe Milanez, appunto antropologo che lavora in Brasile e a Felipe Marco chiede che cosa sta accadendo adesso in Brasile nel momento della pandemia del Covid, che cosa accade soprattutto alle comunità indigene, che possiamo parlare di nuova colonizzazione, di neocolonialismo e Felipe dà una prima risposta che è abbastanza sorprendente, dice guarda, innanzitutto mette in guardia rispetto a un certo hype intorno a termini come decoloniale, decolonizzazione. Lui dice qui quello che sta accadendo in Brasile non è tanto simile al colonialismo che abbiamo conosciuto, ma è più simile alla prima fase, cioè ad una guerra di conquista. e ricorda quando nel XV e XVI secolo i portoghesi invasero l'America del Sud e il Brasile e ricorda che gli indigeni furono sterminati certo dagli eserciti e dalle armi, ma furono sterminati in particolare dai virus e dai batteri portati dagli europei. E quello che Felipe Milanez dice è che oggi sta accadendo qualcosa di simile. Non è che le comunità indigene, indigene, i più poveri siano lasciati morire. Bolsonaro, cioè l'establishment governativo assieme alle multinazionali di tutto il mondo, ovviamente o meglio, le multinazionali del nord globale che hanno interessi in Brasile stanno usando il Covid per uccidere le comunità indigene e laddove c'è il vuoto costruire nuova accumulazione, predare quelle risorse che prima erano difese da quelle comunità.